vi assicuro ragazzi che è una sensazione stranissima questa che sto provando adesso perché ormai ho perso il conto e non ho manco visto quando è stata l'ultima volta che ho caricato l'ultimo video e quindi non so nemmeno da quanto tempo è che non mi metto davanti alla macchinetta a registrare e mi fa veramente strano però penso sia normale insomma se vogliamo rendere il tutto un pochettino più normale dovrei iniziare il video così e what hi a tutti ci ormai benvenuti da giocherina mamma mia quanto mi fa strano a dire in questo nuovissimo video per quanto non ci stia credendo nemmeno io ragazzi ebbene sì eccomi qua sono io sono tornata dopo questa eternità di tempo che è stata quest'anno ragazzi effettivamente anche se io ho cominciato a rallentare quei video penso comunque dal dal primo periodo estivo quindi non è che proprio tutto l'anno che è stato così però sono un bel po' di mesi ragazzi effettivamente che non faccio youtube e io penso che comunque avrei voluto non interrompere quello che ho sempre fatto su youtube ragazzi però vi assicuro che da un lato non ho avuto scelta perché come comunque avevo spiegato ragazzi quest'estate ho lavorato tanto anche io ho fatto per un bel periodo di tempo anche io doppio turno quindi praticamente era proprio umanamente impossibile che io facessi video ma poi mi rendo conto che anche quando ho smesso di fare doppio turno ragazzi quindi sono tornata a lavorare soltanto le sere non mi sono comunque impegnata per ritornare su youtube perché regà comunque è stato il periodo insomma adesso è comunque difficile da un lato spiegare questa cosa quindi io non voglio perdere troppo tempo a stare su quello che è stato tra virgolette non so se è molto chiaro quello che intendo ma voglio concentrarmi adesso regà su quello che sarà perché voglio che questo sia un nuovo inizio diciamo così definiamolo così voglio definirlo così voglio che questo sia un nuovo inizio effettivamente per il mio canale mi rendo conto che probabilmente comunque le cose non saranno neanche tanto come prima probabilmente io parlo comunque a livello di di seguito di views tra virgolette per quanto comunque io regà ovviamente non facessi chissà quante views però mi rendo conto comunque che un arresto così netto così importante può ovviamente segnare la differenza fra il prima e il dopo però vi dirò proprio sinceramente ragazzi frega cazzi non è questo che mi interessa se voglio ragazzi che ci sia un nuovo inizio quindi voglio tornare comunque su youtube ovviamente a fare quello che ho sempre fatto è perché comunque è importante in quest'ultimo periodo specialmente dopo aver ricevuto da veramente diversi io non me lo aspettavo ragazzi ma vi assicuro che veramente diverse persone sono venute a contattarmi in privato per esempio su instagram o comunque sono venute su twitch a chiedermi quando sarei tornata su youtube e questo mi ha fatto riflettere e ci ho pensato abbastanza in quest'ultimo periodo a questo ragazzi e mi ha fatto appunto riflettere questa cosa su quanto evidentemente comunque il mio canale significasse qualcosa per voi i miei video significassero qualcosa per voi e questa penso sia una cosa bellissima ragazzi che sicuramente mi riempie il cuore di gioia in una maniera che nemmeno potete immaginare perché io vi ho sempre detto ragazzi che il significato a tutto quello che facevo su youtube lo davate solo ed esclusivamente voi sapete benissimo ragazzi che io con youtube non ho mai guadagnato un centesimo e probabilmente non ci guadagnerò mai niente io parlo proprio a livello economico ma ci ho guadagnato invece sempre tanto spiritualmente non so se possiamo usare questo termine qua questo è stato possibile solo ed unicamente grazie a voi ragazzi ed è per questo che voglio che ci sia un nuovo inizio qui sul mio canale anche perché tra l'altro ragazzi ho potuto finalmente farmi un computer nuovo cosa che comunque mi serviva fondamentalmente anche perché voi saprete ragazzi che ho cominciato comunque a fare live assiduamente su twitch anzi vi ricordo appunto ragazzi che ho anche un canale twitch su cui sto facendo live praticamente quasi tutti i giorni per cui se doveste voler stare in mia compagnia anche lì ragazzi ovviamente trovate il link in descrizione vi ricordo che comunque anche se non siete iscritti a twitch ragazzi l'iscrizione a twitch è totalmente gratuita quindi non comporta a nessun costo esattamente come su youtube iscrivervi farvi un nick una password e venirmi a followare sul canale soltanto questo questo ovviamente se vi dovesse far piacere stare in mia compagnia anche proprio in diretta diciamo così piccola parentesi la chiudiamo ovviamente quindi il computer nuovo ovviamente apre anche tante possibilità ovviamente per il mio canale perché sapete comunque benissimo che comunque il computer che ho avuto fino a poco tempo fa ragazzi non mi permetteva di giocare tutti i giochi specialmente quelli più recenti perché ovviamente non ce la faceva umanamente proprio a reggerli cosa che invece adesso mi è possibile e quindi anche questo ragazzi deve essere un nuovo inizio quindi sembra essere stato fatto apposta comunque che tutto questo sia successo in questo periodo e quindi anche questo nuovo computer sicuramente segna un nuovo inizio perché mi permetterà comunque di portare giochi ovviamente di tutti i tipi senza dovermi stare a preoccupare oddio ma ce la fa non ce la fa lo fa girare non lo fa girare purtroppo ragazzi ho dovuto prendere la decisione di interrompere del tutto le serie che stavo portando prima che ovviamente smettessi di portare video quest'estate questo perché ovviamente ragazzi è passato veramente tanto tempo insomma dal momento in cui le serie hanno visto la loro interruzione e secondo me riprenderle dopo così tanti mesi sarebbe un pochettino inutile tra molte virgolette io mi rendo conto che magari comunque la serie su Silent Hill mi stava piacendo anche quella su Ori però ragazzi insomma cercate un attimo di capirmi sono passati troppi mesi io penso che comunque le serie ci rimetterebbero anche a livello proprio di seguito voi sapete che questo per me non conta nulla regà però continuare insomma riprendere i giochi che ho lasciato ad un certo punto riprenderli così dopo tanto tempo non me la sento neanche io sinceramente perché non ricordo neanche quasi nulla insomma di quello che ho giocato fino ad ora più o meno quindi per questo motivo fondamentalmente ragazzi che decido di interromperle vi ripeto che mi dispiace ma appunto abbiamo detto è un nuovo inizio si ricomincia da zero iniziamo ragazzi direi col botto perché vi anticipo già quale sarà la prima nuova serie che incomincerò finalmente a partire dalla settimana prossima perché comunque ormai oggi già è venerdì per cui ragazzi riprendiamo a pieno regime tra virgolette dalla settimana prossima e la prima serie ragazzi che porterò a grandissima comunque richiesta da parte di molti di voi sarà Little Hope ovviamente della serie di The Dark Pictures Anthology ragazzi quindi dopo aver portato Man of Medan che è stato comunque molto apprezzato da tanti di voi a grandissima richiesta possiamo finalmente portare senza alcun tipo di preoccupazione ragazzi Little Hope che tra l'altro ci tengo a sottolineare a ringraziare mi è stato regalato da Alessio dal mio amico Alessio che ringrazio ancora di cuore anche perché è stato lui ragazzi piccoli dettagli che mi ha aiutato ad assemblare il pc se non ci fosse stato lui tutto questo non sarebbe stato possibile quindi grazie ancora Alessio ti voglio un mondo di bene quindi questa sarà la prima serie ragazzi io penso che comunque porterò una serie per volta perché forse portarne più di una è un pochettino inutile ma più che altro perché crea confusione anche a voi probabilmente quindi penso proprio di aver preso la decisione di portarne una per volta credo ragazzi che non pubblicherò video tutti i giorni ma a giorni alterni quindi penso che saranno il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica molto probabilmente quindi comunque 4 giorni a settimana ragazzi vi do appuntamento sul mio canale ovviamente sempre alle 19, l'orario di pubblicazione rimane lo stesso per il resto che dire sono comunque entusiasta io spero di esservi mancata, voi mi siete mancati tantissimo ragazzi fidatevi che comunque in questi mesi ho sempre tanto pensato a Youtube a quello che comunque avevo lasciato in sospeso a quanto comunque Youtube sia sempre stato importante nella mia vita negli ultimi anni e soprattutto a quanto pare a quanto sia stato importante comunque per voi quello che facevo su Youtube e quindi era questo che mi dispiaceva di più ragazzi mi ha fatto vi ripeto un enorme piacere vedere invece che diversi di voi siano venuti a ricordarmi che comunque mi pensavate ancora che comunque i miei video hanno sempre significato qualcosa di importante per voi io vi ringrazio, ringrazio chiunque sia venuto a dirmi questo ragazzi perché veramente mi avete riempito insomma il cuore di gioia ed ha significato tanto per cui io non voglio dilungarmi troppissimo ragazzi non voglio starvi insomma ad annoiare dicendovi quello che comunque è stato in questi mesi purtroppo ragazzi ho smesso di lavorare questa è una delle novità di questi ultimi mesi e ovviamente ragazzi comunque l'inverno eccetera era prevedibile che mi avrebbero ridotto i turni col Covid adesso ragazzi io lavoravo due turni a sera in questo prima dell'insomma dell'esplosione nuova del Covid e ovviamente da quando hanno chiuso i ristoranti la sera io ho smesso proprio di lavorare è per questo ragazzi anche che ovviamente mi sto dedicando comunque ancora di più a Twitch e anche per vedere appunto di riuscire a guadagnare qualcosina e per il resto penso che l'altra novità grossa ve l'ho già detta mi sono assemblata il nuovo computer non mi sembra di dovervi raccontare altre cose proprio così importanti per cui vi ripeto non vi voglio annoiare le regali e le novità sono queste io spero ovviamente siate contenti tanto quanto lo sono io non vedo l'ora di cominciare la nuova serie su Little Hope ragazzi perché veramente diversi di voi mi sono venuti a dire che è migliore di Man of Medan che ci aveva lasciato un pochettino con forse l'amaro in bocca nel senso non ci aveva entusiasmato proprio a livelli colossali per cui ovviamente il mio hype per questo invece nuovo capitolo è aumentato ancora di più me l'avete fatto aumentare ancora di più per cui io penso che possiamo finire qua questo video ragazzi vi ricordo quindi che dalla settimana prossima si ricomincia quindi con gli episodi con la serie ecco con la nuova serie vi do appuntamento quindi per lunedì alle 19 con il primo episodio su Little Hope in ogni caso ragazzi io sempre vi invito ad andarmi a seguire sui social principalmente quindi Instagram e Telegram perché sono quelli che uso ovviamente attualmente per costanti aggiornamenti anche sulle live ma anche sui video ovviamente perché ovviamente comunque ragazzi non porterò soltanto serie con cui ho sempre portato anche altri tipi di video quindi sarebbe a dire vlog magari reaction e cose del genere quindi ragazzi comunque costanti aggiornamenti sui social andate a seguirmi anche là vi ricordo ragazzi quindi che se volete potete andarmi a seguire anche su Twitch per comunque vederci anche in live perché faccio cose carucce anche in live porto giochi anche in live che magari non porto qua sul canale e quindi nient'altro vi saluto e vi ricordo che vi voglio un mondo di bene ragazzi e vi ringrazio ancora comunque di cuore per il sostegno che comunque avete continuato a dimostrarmi nonostante tutto nonostante l'assenza in questi mesi vi siamo raga ci vediamo sui social ci vediamo lunedì e io vi mando un bacione gigantesco ragazzi a presto